Allora, questa sera facciamo delle uova stravazzate con cipollini e peperoncini sempre delle viti dolci. Se fate sempre le fissate facciamo l'uovo stravazzate, ma questo è un po' di verità. Scrivetevi un po' di fissate, mettiamo le uova. Ecco qua, così vediamo che devi girare la vittata, facciamo prima e cambiamo, facciamo un piatto diverso questa volta. Un po' di pezzino, un po' di sale, mettiamo la fiamma e vediamo, la fiamma si calzata. Un po' di pezzino, un po' di pezzino. Questa sera non c'è la focaccia e c'è il pane. Sempre focaccia, ogni sera focaccia, basta che sia focaccia. Facciamo tutto in quadratura. Un po' di pezzino, un po' di rosso e peperoni. Anche questa sera è fatta. Va bene. La fiamma è passata. Sì programma è passata. Rapporti il vino